A tavola bisogna essere moderati. Talvolta si mangia troppo, più del necessario. Poi la vita sedentaria non ci consente di smaltire il superfluo. Tutto questo appesantisce il nostro corpo. Allora che fare? Aiutiamolo con fave di fuga, un prodotto vegetale a base di alghe marine. Le fave di fuga regolano l'intestino. Allora, fave di fuga per il tuo organismo. Puoi avere una linea agile e snella anche con il buon funzionamento dell'intestino. Leggere attentamente le avvertenze.